ciao ragazzi benvenuti su clash royale allora ragazzi guardate che ho vinto questa qui poi ragazzi ho fatto un video vabbè lo rimettiamo e allora ragazzi siiii lo stai facendo da qua sto sversando allora faccio un video mi vorrei sempre fortuna quando non faccio i video vi porto uno sportino speriamo che non c'è il virus a quest'ora non c'è questo sport non c'è questo sport ci riesce non c'è tutto sta roba non c'è questo sport non c'è questo sport non c'è questo sport vabbè ha fatto la dor non c'è questo sport 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 non dico niente, arriva un video di Fortnite freddo non dico niente stavo girando con niente contro tornato che φsuccia vabb e fattila vuol got a freddo vi fine il Pekka, il Mini Pekka con il Pecka 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 con i Pec DVD Questo mio vero è la strada di me. Doiii. Ho fatto tutto il trolletto. Scrivete voi? Sì, vuoi? No Scrivetevi Non è come me Scrivete pure questo Chi ha youtube Un youtuber Perse pure lui Perse Pazzo Milo e settegendo Milo e quattrocento Vediamo il video di Clash Allora Chi ha Non in giapponese Scrivetevi 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 Noi, 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 noi Noi, noi, noi Noi, noi, noi Noi, noi Sì, sì. che mi pareva nero dopo da l'anno mi ha tornato la lola a teneviare del lu e di lu perché la teneviare del lu che voglio in rosa pietre mi venendo mi ha tornato la lola non non no dai non è il ultimo colpo non è il ultimo Sì, 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 sì. Grazie a tutti. mia un quadro pova sova non c'est la bombe a ravi non no questo qua è una battuta no me lo puoi tagliare adesso la scintilla gli metto il becca perchè non gli fa niente no 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 non non ma non 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 ma non 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 ma 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 buona volontà per voi iscrivetevi sui commenti